Buongiorno innanzitutto, siamo un'azienda che nasce circa 35 anni fa in Francia con 11.000 clienti in 50 paesi diversi. Di questi 11.000 clienti, 6.000 clienti con oltre 600.000 utenze a livello mondiale utilizzano le nostre soluzioni in modalità cloud. 700 dipendenti in 14 paesi con un fatturato che da 10 anni a questa parte cresce in doppia cifra e che nel 2019 ci ha portato a raggiungere un livello di 104 milioni di euro. Siamo quotati in borsa, un aspetto molto positivo è che in poco più di 10 anni le azioni sono passate dall'euro e 60 a 115 euro oggi. La nostra missione è aiutare le aziende a dematerializzare quelli che sono i loro processi di business, ampiamente riconosciuti come uno tra i leader nei software di automazione che si basano su intelligenza artificiale. Le aziende infine utilizzano le nostre soluzioni per aumentare l'efficacia, l'efficienza e la visibilità nei loro processi attivi e nei loro processi passivi. Fondamentalmente siamo qua per tre principali motivi, per incontrare le persone, per confrontarci con le persone e soprattutto per ascoltare le persone. Partirei da questo terzo ultimo punto, l'ascoltare è sempre più importante, noi non vogliamo porci come un semplice fornitore ma come un partner, come un consulente e saper ascoltare diventa sempre più importante in quanto dobbiamo costruire l'abito perfetto per i nostri clienti. Confrontarci sulle sfide, confrontarci con le persone sulle sfide e sulle problematiche che i CPO incontrano nella loro quotidianità e incontrare le persone perché abbiamo da presentare una soluzione end to end dall'onboarding del fornitore alla gestione delle richieste di acquisto, all'ordine dei beni e dei servizi fino alla ricezione verifica e approvazione delle fatture. Come vi ho anticipato precedentemente, la nostra soluzione è una soluzione completa, è una soluzione di ciclo passivo, una soluzione che prende in carico tutto il processo P2P. In questo modo i manager possono attraverso report, metriche, dashboard e KPI andare a visualizzare in real time quello che è l'andamento del processo stesso. Un secondo punto è la nostra compliance e la nostra integrazione con qualsiasi tipo di sistema gestionale possiamo trovare sul mercato in modalità diretta o in modalità indiretta. Ovviamente con i principali sistemi come SAP, Navision, Oracle abbiamo delle certificazioni e delle connessioni molto spinte. nemmeno l'industria è un problema per noi in quanto abbiamo clienti e lavoriamo con clienti appartenenti a settori più disparati, quindi dal food and beverage al pharma med device, dal chimico all'industria dei beni di russo, dal manufacturing all'elettronico. Un ultimo punto è la nostra competenza sul cliente. Abbiamo un team molto preparato che segue il cliente dalla fase di pre vendita alla fase di post vendita, dalla fase di consulenza e dalla fase di sviluppo alla fase di training e alla fase di formazione.